Speravo tanto di... lasciarmelo alle spalle. Ehi, piccioncini! Ma l'abbiamo ancora finito, tu e me. Ma tu e me? Non mi rompere con la grammatica. Non mi piaci per niente, capisci? Dillo lunedì alla donna delle polizie. Come? Perché lunedì potrebbe avere da fare. Ah... Perché tra due minuti di polverizzo e la donna delle polizie toglie la polvere. Spolvera. Ma cosa... Che c'entra lunedì? Perché... Oggi è venerdì e la donna non lavora nello weekend. Giusto? In pratica dovrei rinunciare a questa ragazza altrimenti Todd ti uccide.